Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come reiterato dal titolo, voglio darvi qualche consiglio per completare il sigillo del nuovo ride Crypto di Pietrafonda. Prima però vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo. Premetto che questo sarà il primo di più video dedicati al sigillo, dato che al momento non è possibile completarlo non essendo state ancora aggiunte le sfide del ride e essendo il trionfo segreto ancora nascosto. In questo video quindi andremo a vedere come completare tutta la prima pagina dei trionfi più le mini challenge dei vari step. Andando quindi per ordine iniziamo dal distintivo, come sapete questo ci richiederà di ottenere tutti gli armamenti dell'incursione, sullo stesso personaggio quindi dovremo avere il full set di armatura e tutte le armi. Oltre ovviamente a completare un ride a settimana con tutti i pg, sperando di droppare nel frattempo anche il lanciarazzi al boss, c'è una novità che ci potrà aiutare a completare il distintivo più velocemente. La cripto di Pietrafonda sarà infatti farmabile, questo non significa che potrete riottenere il drop continuando a completare gli step. Tuttavia ognuno vi darà 5 spoglie di conquista. Questa è una nuova valuta che vi permetterà ad ogni completamento di acquistare delle casse specifiche per i vari drop, al prezzo di 60 spoglie. Seppur più lentamente quindi avrete la possibilità di farmare i vari step e sperare di droppare il pezzo che vi manca alle alle casse finali. Inoltre sappiate che ogni settimana con ogni personaggio potrete aprire le due casse segrete, che vi daranno 10 spoglie ciascuna. In ogni caso vi verrà comunque il chiesto di aprirle entrambe in un altro trionfo, se non sapete dove sono vi basterà quindi seguire le informazioni a schermo. Per la prima completate lo step degli Astori, raggiungete quindi l'ultima cupola di calore e dando le spalle alla porta d'uscita salite sulla montagna alla vostra sinistra. La seconda è nella zona dello spazio, superato il secondo step uscite e iniziate il parkour che vi porta al terzo. Superata la seconda piattaforma sulla sinistra dovremo saltare di piastra in piastra per continuare e proprio qui ci sarà la seconda cassa. Saltiamo quindi il secondo trionfo che vi chiede semplicemente di completare il ride, se però non sapete come fare vi ricordo che trovate tutte le guide dei vari step sul canale. Per ottimizzare il tutto cercate di portare avanti il sigillo con un team di compagni di clan, in modo da completare anche il terzo trionfo, finendo un ride con una squadra composta esclusivamente da membri del clan. Inizia ora una serie di trionfi che vi richiederanno di completare gli step utilizzando sottoclassi uguali per tutti i tipi di danno e inoltre di fare una run con tutti i personaggi della stessa classe. In genere sappiate che per le sottoclassi potete giocare normalmente ricordandovi di cambiare al danno richiesto prima di finire lo step. Se però volete fare le cose precise vi do qualche consiglio su come organizzarvi. Per il primo step con le sottoclassi solari consiglio prevalentemente pozze e pistoleri con falconotte per fare danno ai fusibili e finire lo step qualche giro prima. Stessa cosa per le sottoclassi da vuoto in cui le bolle aiutano parecchio. Non usate però bomba nuova o freccia per fare danno perché rischierete di colpire più fusibili contemporaneamente e in caso vi ricordo che sarà wipe. Ad arco invece consiglio di concentrarsi sulla pulizia dato che ormai l'unica super per dps sarebbe l'onda del caos che potete tranquillamente superare con gli xenofagia. Per il secondo step valgono gli stessi consigli qui però potete usare liberamente bombe nuova e freccia per fare danno ad atrax. Al contrario le super di pulizia non trovano molta utilità. Il terzo step è esattamente l'opposto non avete bisogno di fare danno quindi evoca tempeste, martelli, assaltatori e bastogno d'arco sono ben accetti. Il problema arriva al boss dove pozze e falconotte saranno perfette, un po' meno bolla e nuova dato che con le bombe distruggeremo la rete del divinity per qualche secondo e che le bolle se non si sono pensate bene rischieranno di farvi morire. Ad arco invece consiglio super di pulizia per la fase iniziale dato che per il dps sono pressoché inutili. Munitevi quindi di pozze amplificative o fate il trick del cambio super all'ultimo. Per ultimo parliamo della classe da concordare. Qui senza ombra di dubbio buttatevi sullo stregone che tra pozze e bomba nuova si applica a qualunque tipo di step. Arriviamo quindi alle mini challenge strutturate più o meno come sfide ma decisamente più semplici. Per il primo step vi verrà chiesto di portare tutti i barracuda dalla prima all'ultima cupola. Non dovrete necessariamente passare per tutte quelle nel mezzo ma basterà che tutti e sei barracuda entrino nell'ultima bolla. Di per sé è una richiesta semplice anche perché nel caso in cui doveste morire il barracuda risponerà all'inizio. Se volete però fare le cose con più facilità potete sfruttare un piccolo glitch che eliminerà la meccanica del gelone. Per farlo vi basterà mettere il barracuda subito fuori dalla cupola e salirci rimanendo al riparo. In questo modo il buff delle cupole rimarrà anche quando siete in mezzo alla tempesta. In generale comunque ricordatevi che i barracuda sono più pesanti dei normali astori e sarà quindi più difficile fare grandi salti. Completato il trionfo otterrete anche la storia esotico. Ora per il primo step la mini sfida ci chiederà di utilizzare due terminali anziché tre. Per quanto sembra difficile è in realtà molto semplice. Basterà che l'operatore aspetti che lo scanner abbia letto i terminali prima di scendere. In questo modo quando aprirà le porte per raggiungere la stanza sotterranea lo scanner potrà cambiare lato e leggere gli scanner di bianco senza dover passare il buff. Fatti tutti i parnelli tornerà al terminale da cui abbiamo startato e lo scambio tra scanner e operatore avverrà tramite questo terminale e quello del piano di sotto. Per il secondo step non c'è nemmeno bisogno di grandi spiegazioni. Dovremmo uccidere i servitori entro 5 secondi l'uno dall'altro. Dividendosi quindi uno per ogni servitore lasciamoli one shot e uccidiamoli tutti insieme quando siamo pronti. Stranamente qui si salta subito al vostro per una richiesta simile. Per cui dovremmo piazzare le palline nelle casse entro 5 secondi l'uno dall'altra. Questa può anche non essere considerata una sfida dato che viene abbastanza da sé. Noi stessi l'abbiamo completata senza accorgersene. Se però volete essere sicuri aspettate che il vostro compagno sia pronto a piazzare la pallina per farlo insieme. Assicurandovi di avere un sostituto a testa in caso le radiazioni salgano troppo. L'ultimo step di cui possiamo occuparci per ora è quello che ci ricompenserà con lo spettro esotico. E richiede di trovare 5 registri in giro per la mappa. Il primo si trova subito prima dello step dei fusibili. Entrate dall'ingresso della cripta e superate la porta di destra. Sulla destra dietro a queste casse troverete il registro. Per il secondo proseguite verso Atrax nella stanza collassato del vagliatore. Arrampicatevi sui tubi in alto a sinistra e troverete il registro. Il terzo è nello spazio. Superate la prima grande piattaforma prima del salto in cui la stazione orbitale potrebbe intralciarvi. Scendete su queste piattaforme e troverete il registro. Il quarto è subito prima della stanza alla fine del parkour. Raggiunta la piattaforma finale con i nemici andate tutto a destra e troverete il registro. L'ultimo invece è poco prima del terzo step, nella stanza prima di quella di Tanix. Dovremmo quindi salire sul cilindro a destra per ottenere anche l'ultimo registro. Quindi questi al momento sono gli unici consigli che possiamo darvi per completare il sigillo. Ancora non sappiamo quando verranno giunte le sfide settimanali o quando il trinunfo segreto verrà svelato. Nel frattempo però potete dedicarvi a questa prima parte. Io quindi spero che il video sia stato utile. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Reattivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. E detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.